Sono state circa 480 le chiamate arrivate al numero verde antiusura della provincia di Roma tra febbraio e luglio 2011 per segnalazioni e richieste d'aiuto. Il telefono 893 93 96 è un servizio gestito dall'associazione Codici, un numero a disposizione di chi vuole denunciare atti di usura e strozzinaggio e ricevere un supporto concreto per risolvere questo problema. Molte delle chiamate all'893 93 96 infatti si sono poi trasformate in assistenza legale, come spiega l'assessore per la lotta all'usura della provincia di Roma Serena Visintin. Di questi 480 telefonate, 60 si sono già tradotte con un incontro dei nostri legali con i cittadini e quindi in quel caso è accertato che c'è la forma di usura. Molte delle nostre telefonate sono relative a persone indebitate a causa del gioco, il videopoker, le macchinette che trovate che si trovano ormai frequentemente ovunque in ogni angolo della strada. Credo che sia bene che noi cominciamo una battaglia per svelare questo aspetto e soprattutto per dire al giocatore che ci sono modi per uscire fuori da questa maglia. Grazie a tutti!